Presentati grazie al protocollo d'intesa tra Corpo Forestale dello Stato e tre parchi nazionali abruzzesi, la nuova unità cinofila antiveleno che opererà presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il nuovo automezzo attrezzato per l'impiego dei nuclei cinofili, dislocato presso il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L'uso illegale del veleno è oggetto di attento monitoraggio da parte del corpo forestale, sia in chiave di prevenzione che repressiva. Dal 2011 a oggi i nuclei cinofili antiveleno del Corpo Forestale hanno effettuato 168 ispezioni, rinvenendo 132 esche e 36 carcasse avvelenate, 150 ispezioni preventive con 950 ore di lavoro effettuate. Grazie allo sviluppo dell'analisi criminale e del fenomeno, in funzione dei principi attivi rilevati in carcasse ed esche da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo e della localizzazione delle esche, sono stati individuati nel 2015, per la prima volta in Abruzzo, due avvelenatori, uno in provincia di Teramo ed uno nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. Certamente le esche avvelenate che a volte vengono appunto disperse nell'ambiente per varie finalità, per conflitti personali, per conflitti da ricercatori di tartufi, eccetera, sono delle vere e proprie bombe ecologiche, perché purtroppo chiaramente anche lupi, orsi, e fa una selvatica appareggiata, può imbattersi in queste esche. Il progetto appunto, grazie allo strumento operativo efficacissimo dei cani antiveleni, riesce sia all'individuazione delle esche, sia quindi a mettere a disposizione del decisore, del legislatore, uno strumento importantissimo per il monitoraggio del fenomeno, e sia finalmente anche a individuare i responsabili, come è successo nel 2014, nel 2015, in provincia di Teramo e nel Parco della Maiella.